Per un referendum consultivo comunale servono 2.500 firme, occhie croce, un ventesimo del corpo elettorale raccolte in 90 giorni dopo che viene autorizzata la raccolta da parte degli uffici comunali competenti. Sono questi i termini ai quali i 10 firmatari che porteranno in comune la proposta di referendum si dovranno attenere. Il quesito che verrà posto ai cittadini qualore venga accettata la proposta referendaria è questo. Vuoi che il comune di Fano costruisca un digestore anaerobico nelle frazioni Bellocchio-Falcinetto di Fano? Croce sul sì o croce sul no. Ma la strada per arrivare a questo è ancora lunga. Uno dei promotori dell'iniziativa è un navigato esponente della politica fanese, Davide Del Vecchio dell'Udc, che sull'argomento ha prodotto in passato un copioso e documentato dossier e che abbiamo incontrato questa mattina a 200 metri in linea d'aria da dove nella zona industriale di Bellocchi dovrebbe eventualmente sorgere l'impianto, il quale però si cava anche qualche sassolino dalla scarpa con i suoi ex compagni d'opposizione. Su temi così delicati non possono essere le parti politiche che dividono, che decidono il futuro e le sorti dei territori, ma è bene che, come prevedono gli strumenti democratici, siano i cittadini a decidere. Mi auguro che il sindaco prenda spunto dal fatto che è democratico, è democrazia far votare i cittadini, appoggi il referendum così come tutte le parti politiche possono aderire a questo referendum. Sono stato cacciato di allarmismo, tacciato di fare in qualche maniera solo scandalo per avere un vantaggio politico e devo dire che anche la mia parte politica, il centrodestra, non mi ha affatto aiutato, anzi mi ha lasciato completamente solo. Voglio ricordare che sono stato da solo a presentare questi documenti in Consiglio Comunale e a portarli all'attenzione della città. La lega in primis non ha assolutamente aiutato, forse perché citavo in quei documenti il più grande digestore anaerobico che è in Lombardia, che serve tutta la Lombardia, tanto per essere molto chiaro. Oggi si straccia le vesti, ieri non era assolutamente di questo parere. Quindi al di là dei partiti vogliono starne proprio fuori, visto che anche con una manovra di palazzo hanno cercato di tenermi fuori dalla vita politica di questa città. Io chiedo invece ai cittadini di buona volontà che hanno voglia di aiutare, di far parte di questo convitato referendario, di attivarsi, di contattarmi nei canali social che ho. I prossimi giorni comunque mi attiverò per dare tutti i dati. Abbiamo già dei piccoli gruppi nei vari quartieri che sono interessati a portare avanti questo referendum e mi auguro che alla fine poi sia una cosa veramente di tutti i cittadini, che non ci si divida sempre per ogni piccola questione, ma che si cerchi la soluzione migliore per la città e per la salute dei cittadini.